si lo so sono ridicolo con questo cappello con tanto di cuffie giganti alle orecchie lo so ma devo mantenere una promessa dove metto le cuffie ogni volta che faccio video in facecam o dei vlog bello a tutti i compagni a quel vostro il kids qui vi parla bentornati con un nuovo video su battlefield 4 ps4 magari questo video lo state vedendo già che è uscito a hard e non lo so ma chi se ne frega perché questo video speciale infatti non è per dire non so se si vede c'ho anche la maglietta di battlefield 4 addosso e fa un cazzo di freddo cane io sono in maniche corte farò un video interamente con l'arco io in poche parole quando uso l'arco non sapendolo utilizzare più di tanto e soprattutto perché fa dei cazzo di tmarker sclero abbastanza allora ho fatto 2 più 2 faccio un video in facecam dove uso l'arco almeno sclero ok iniziamo siamo sulla mappa hammered del dlc final stand sentite come lo dico bene final stand siamo nella mia mappa preferita perché è una mappa che io sto adorando ho il volume che mi sta uccidendo le orecchie grazie mi avete fatto perdere 10 anni di vita con quelle esplosioni cominciamo subito nooo allora dovete capire che la ricarica dell'arco è lenta quanto non li prenderò mai tu esageri però con l'rpg ma allora sì ma ci sono no 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 chi è sono forte ma non è per dire ma una doppia dicevo praticamente è l'arco cioè guardate la ricarica già solo per mirare c'è qualcuno nooo in tuo culo in culo te la devi prenderti eh cornuto ma no ma mi ha ucciso super mario cioè viene il super mario uccidermi sono diventato così forte che deve venire casa nintendo avete così tanto paura di me io ragazzi non vorrei fare quello che magari dice offende no però quanti cazzo sono là dentro quanti una riunione di ufficio che cazzo è l'ho preso commentare novanta no 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 95% di assistenza all'uccisione no però no 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 qua ah come secondaria c'ho la desert eagle perché fa figo avere la desert eagle c'ho una mira che battutaccia lascia a desertare devo devo smetterla prima o poi giuro attacco kamikaze attacco kamikaze cazzo c'è ne uno con la desert eagle non si fotte biatch si lo so che dovrei usare l'arco ma silenzio permesso si deve levare guardalo guardalo cioè ha 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 ho deciso marcolino ha 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 d'ora stronzo ah ma c'è un c'è un caramato ecco perché c'era così tanto movimento ma se tipo provala in c4 al volo è già morto faccio l'acab ripeto faccio l'acab oh cazzo di motoslith stavo dicendo vado a fare l'acab ouvero vado a prendere la e sto caramato qua mi sta già rompendo le palle Vieni qua, vieni qua, molto solita Uno, due, tre Trolling in live, attenzione signori e signori Trolling in live Stai lì bello, fermo Ma sì Ma sì Ma sì Allora Ok, ho ucciso il tizio Ma non mi pare che c'era dentro il mio compagno Quando io ho fatto saltare in aria tutto C'è un altro L a V qua davanti Non mi vede, non mi vede, non mi vede Non mi vede Ma hai visto? Ma hai visto? Così per puro caso Sono passato dalla fazione avversaria Ma io Non ho fatto niente Non sapevo che cos'era quel tasto Vero? Vedi, sta dicendo pure lui Io sono innocente, ragazzi Cioè, ho detto Non voglio cambiare fazione È vivo? Ma è vivo quello! Si sta Stava facendo il fitto morto Non puoi fare il cazzo di hitmarker Arco di merda Tu, 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 ciao Scendiamo, sennò dopo ci annoiamo troppo Come non detto? Ci torniamo dentro Wow Per un momento sono diventato ghost E mi ha attrapassato Ancora? Ma allora Siamo in 31 in questo cazzo di server E lui deve puntare solamente a me Ma spiegamelo Eccolo È mio, è mio È mio Se non è mio, è mio Cioè, è mio per forza Deve essere mio No, gli è arrivati No, gli è arrivati in faccia No, 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 no Ma sei? Sì Sì Ah, ho ucciso Puma Ho ucciso il creatore della Puma Mi spiace Vabbè, raga Secondo che mi sono rotto Di stare davanti a quella porta Dove praticamente non passeremo mai Ho detto Ma sì, dai, andiamo di qua Salve Benvenuto nella tua morte Nella tua tomba, bitch Lassopra sta succedendo qualcosa Vai, vai, vai Vai prima te, va Io ti copro No, 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 no No, no, scendi, 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 scendi Date, fregati, fregati Non guardate giù Non guardate giù Buttatevi senza guardare Buttatevi senza guardare Buttatevi senza guardare Dai, vieni Dieci Dieci Sì, proprio C'è arrivata quella granata Ma questo cosa stava facendo? Il controllore dell'ascensore Tripla 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 Voglio fare Tripla Eh sì Poi C'è 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 Raga Raga Chiamatemi Arru Chiamatevi Come cazzo si chiama L'altro tizio Robin Hood Chiamatemi come cazzo Volete ma chiamatemi Chiamatemi in un modo Figo Perché io sto facendo Le stragi Quanto sto facendo? Dov'è? E io dicevo che dovevo sclerare Ma se qualcuno Comunque notasse Che magari c'è una bandiera Chiamata E Conquistata dai nemici E abbiamo vinto 24 Con arco Più o meno Solo arco Un paio di kill call A desert eagle Ma non conta Perché a desert eagle Fa parte dell'arco Voi non lo sapete Ma se comprate un arco Compound Su Battlefield 4 Vi danno in omaggio Una desert eagle Dello stesso colore Infatti il mio arco è bianco A desert eagle è bianca Coincidenze? Io non credo Un abbraccio d'Adam Comunque ragazzi Se il video è piaciuto Lasciate un mi piace Un commento Iscrivetevi al canale Se non siete ancora E passate dalla pagina Facebook Trovate sotto in descrizione Fatemi sapere appunto Con un commento Se volete altri video con l'arco Appunto Altri video su Battlefield 4 Visto che ma Con l'uscita di Hardline Ne farò molti di meno Rispetto al normale Passerò principalmente su Hardline Io non posso far altro Che ringraziarvi Per avermi seguito E noi ci vediamo Al prossimo video Bye Bad company Italy Ciao